La Turchia è una squadra forte, ha mezzi importanti fisici e tecnici. La Turchia è una grande esperienza. Io volevo vedere l'Albania coraggiosa e mettere in difficoltà la Turchia. E ci siamo riusciti perché abbiamo avuto due o tre opportunità davanti alla porta e non abbiamo concretizzato. Grazie a tutti. un gioco e mi piacerebbe essere felice e mi piacerebbe essere felice e mi piacerebbe essere felice e mi piacerebbe essere felice. Io ho fatto bene, ha detto lui che ho fatto bene, ma non basta perché... La Turchia ha 18 punti, la Francia ha 18 punti, noi abbiamo 9 punti, non abbiamo più chance per poter andare in Europa. Se oggi vincevamo la partita che si poteva anche vincere, andavamo 12 punti, Turchia 15, Francia 18 e anche l'Islanda, si rimetteva tutto in discussione. Perché noi giochiamo con la Moldava e poi giochiamo con l'Andorra in casa e dopo con la Francia l'ultima partita. Pertanto se si vinceva qui avevamo ancora tutte le opportunità aperte e si metteva in discussione tutto il girone. diventava un girone molto difficile, invece così la Turchia e la Francia sono andate e hanno sicuramente percentuali altissimi di poter arrivare l'Europa. Sì. 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 Sì.